Sono Ilaria Zampieri, curatrice della mostra Silent Singing qui a Isola 17 Gallery. Questa è la prima mostra personale di Lysiane Rodriguez in Italia e presenta una selezione delle sue più recenti opere. Il concetto fondamentale che caratterizza tutte le opere è un concetto di bellezza personale dell'artista che si pone al centro della dicotomia tra attrazione e repulsione. L'artista infatti presenta la fragilità dell'essere umano attraverso la realizzazione e la creazione di corpi deformi o assenti che vengono vestiti proprio per invece che coprire le malformazioni per risaltarne la delicatezza e la bellezza che secondo Lysiane fa parte di tutte le cose che hanno la vita. Vi invitiamo a visitare la mostra che sarà aperta dal 5 ottobre al 1 dicembre 2019 qua a Isola 17 Gallery a Veona.